Cari amici, buongiorno. Mi chiamo Giuseppe Elio Ligotti e sto per proporvi la prima lezione di un mio corso poetico di scrittura. Iniziamo subito parlando del verso più regale della tradizione poetica italiana, l'endecasillabo. L'endecasillabo è un miracolo del suono dove tutto è giusto, la dimensione, l'estensione, la lunghezza e tutto è vario. Il ritmo, l'espressione, l'immagine. In endecasillabi, peraltro, sono stati scritti i maggiori capolavori della letteratura poetica italiana, basti ricordare la Divina Commedia. La lingua italiana, fortemente euritmica, è una lingua endecasillabica. Espressioni convenzionali come, che so io, il maresciallo dei carabinieri, oppure stasera andiamo tutti in discoteca, o anche, magari fosse, c'è il coronavirus, sono endecasillabi. Ora, ai fini dell'attività creativa diviene fondamentale saper computare, saper costruire endecasillabi. Si è soliti dire che il verso, l'endecasillabo, sia di undici sillabe. La definizione in realtà è impropria. Se prendiamo il leopardiano poi quando intorno è spenta ogni altra face, veniamo in realtà a computare la bellezza di quindici sillabe. È più corretto dire che l'endecasillabo è un verso di undici sedi o posizioni. Mi spiego meglio perché sede e posizione non sillaba, anche se poi convenzionalmente potremmo continuare a dire sillaba, intendiamoci, perché all'interno del verso, quando una parola termina per vocale e sussegue un'altra iniziante per vocale, avviene fra le due sillabe e la fusione in un'unica per l'appunto sede o posizione. Il fenomeno si dice della sinalefe, dal greco siun aleifo, termine vagamente porno, tanto in quanto significa ungo insieme, per l'appunto mescolo, fondo. E allora, un verso di undici sedi o posizioni, ma diciamo anche impropriamente sillabe, l'accento ritmico, l'ultimo accento ritmico dovrà sempre cadere in decima sede o posizione. Ora, noi sappiamo che per qualsiasi tipo di conteggio ricorriamo più o meno meccanicamente alla punta delle dita. Anche nel computo dell'endecasillabo questo sistema può ritornare utilissimo. Va da sé che l'ultimo accento ritmico, non lo dirò mai abbastanza, quello rivelatore in decima sede dovrà cadere sulla punta del mignolo. Vediamo degli esempi nel concreto e tentiamo anche di raffigurarli. Nel mezzo del cammin di nostra vita, l'ultimo sul mignolo, per l'appunto, l'ultimo accento ritmico, sulla decima posizione. Ora, il maresciallo dei carabinieri, il verso di qui sopra, dove cade l'ultimo accento ritmico? Su quale posizione? Mi si dirà nieri, cioè sul mignolo, vediamo. Il maresciallo dei carabinieri. Ora, facendo ricorso al mio dialetto di appartenenza, mi si passi la volgarità tutt'altro che gratuita, facciamo un altro esempio. Coronavirus, l'imortacitua. Dove cade l'ultimo accento ritmico? Su quale sede? Tu. Verifichiamo. Coronavirus, l'imortacitua. Per l'appunto. Oppure, facendo ricorso all'altro dialetto di mia appartenenza, il siculo. Dove cade l'ultimo accento ritmico? Ta. Verifichiamo. Benissimo. Per il momento, credo, sempre ribadisco sulla decima posizione, cioè a dire sul mignolo. Credo di essere stato abbastanza esauriente. Volevo però ricordarvi un'altra questione. Avrete notato che nella estensione fonica, nella dicitura del verso, a un certo punto nella lettura c'è una pausa, la cesura. La cesura divide il verso in due emistichi. Laggiù in Sicilia non ridete. Ho detto emistichi, con una c, non con due c. Emistichio viene dal greco emi, mezzo estigos, due mezzi versi. Ora, la prossima volta, scenderò nel dettaglio della questione degli emistichi. Benissimo. Per oggi basta. A presto. Grazie.